Allora, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti all'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, benvenuti al Festival Restart, il Festival annuale dell'Associazione da Sud. Io ho il compito stasera di introdurre un tema a noi particolarmente caro, che abbiamo affrontato tanto in questi anni, che è la violenza maschile sulle donne, la violenza di genere, e che è un tema che l'Associazione purtroppo quest'anno decide di dedicare questo spazio con un carico emotivo e simbolico maggiore rispetto al passato. Veniamo da un momento molto difficile per il nostro Paese, il Covid ha decretato la morte di tante persone, ma ha anche determinato la sofferenza di tantissimi altri nelle forme più diverse. Riflettevamo nel momento in cui abbiamo deciso di dare questo titolo al Festival, alla giusta distanza, come durante il lockdown, quel motto salvifico per tanti e tante che è stato restato a casa. Per tante donne invece ha significato più dolore e più sofferenza, perché si è rimasti a casa a convivere proprio con quell'uomo che per tanto tempo, per troppo tempo ha magari abusato di te e ti ha procurato tutta la sofferenza che viene dalla violenza quotidiana e domestica. Giusto per dare dei numeri, perché a volte è importante darli, noi abbiamo registrato durante il lockdown, noi intendo dire associazioni, centri antiviolenza, reti che si muovono dentro questo ambito, che dal 2 marzo fino al 6 maggio c'è stato un incremento di richiesta d'aiuto da parte delle donne del 30%, che è tantissimo, è veramente un'impennata straordinaria che ci dicono le stesse operatrici dei centri antiviolenza è stato difficilissimo da gestire, perché in alcuni casi i centri con difficoltà riuscivano anche a operare all'interno del lockdown ed è stato un momento anche molto complicato per poter denunciare. Già un processo complicatissimo per le donne da fare, figuriamoci dentro questa situazione. Quindi da questo, da qui diciamo, da tutto quello che si è verificato negli ultimi mesi e che noi abbiamo eseguito nel corso degli anni, c'è un parallelismo che a volte ci capita di fare che la questione della violenza sulle donne come le mafie sembra non avere una via d'uscita. In realtà ci sono tanti modi per leggerli dati e paradossalmente questo dato ci dice anche che c'è tanta gente, tante donne che oggi trovano il coraggio di denunciare e quindi paradossalmente il fatto che oggi si possa parlare di tutto questo è anche indicativo, è il segno di un lavoro di sensibilizzazione che è stato fatto nel corso del tempo e che ha visto tanti di noi impegnate su questo fronte e in questa direzione. Questo è un percorso che noi abbiamo sempre individuato, l'abbiamo detto in tante, è un processo di ordine culturale principalmente. ed è per questo, proprio perché abbiamo sempre dato questa chiave di lettura delle cose, poi è chiaro c'è un problema di ordine sociale, politico, intervengono tanti elementi, però sicuramente la matrice culturale di come avviene la violenza e come si è sviluppata nel nostro paese la violenza di genere è un tema che sta a cuore a tanti di noi ed è per questo che io stasera sono molto contenta di presentarvi le compagnie, cioè quelle che io considero delle compagne di viaggio di questo percorso che abbiamo intrapreso e che stiamo portando avanti. Una è Cinzia Paolillo che è dell'associazione da sud con cui ormai condividiamo da vent'anni questo impegno da quando abbiamo iniziato con quattro matte a fare un collettivo che poi insomma ebbe una vita molto breve ma che poi si sviluppò all'interno dell'associazione. Giulia Minoli che è la vicepresidente della Casa Internazionale delle Donne ma che è una compagna, un'amica di da sud con cui abbiamo veramente, stiamo portando avanti insieme tantissime battaglie ma chiaramente poi ci ritorniamo e Fiorella Mannoia che voi stasera incontrate in una versione diversa dal solito nel senso che la apprezzate tutti come artista, come professionista non so quanti di voi sanno dell'impegno che lei in questi anni sta mettendo proprio nella battaglia contro la violenza sulle donne e quindi partiremo da qui cioè partiremo dal racconto delle nostre esperienze per provare a sviluppare e a raccontare quello che è un fenomeno che come tutti i fenomeni umani diceva Falcone rispetto alle mafie ha un inizio e ha una fine e quindi noi con questo spirito, con questo approccio stiamo cercando di affrontare il tema con la giusta distanza mi verrebbe da dire cioè con l'empatia che ci vuole nei confronti delle donne ma anche con la capacità di prendere delle decisioni importanti a volte anche in popolari mi rendo conto perché alcune battaglie che abbiamo fatto contro gli stereotipi sul linguaggio, sull'introduzione dell'educazione sentimentale nelle scuole non sono di facile comprensione a volte tutto viene derubricato comunque individuato come un femminismo elitario di cui questo paese, io penso, studenti non abbia bisogno ma che anzi abbia bisogno di momenti di grande popolarità per riuscire a far capire da che parte stare e come noi ci stiamo a questo mondo quindi la prima domanda che vorrei fare a Fiorella che è l'ospite d'onore di stasera del nostro festival è proprio partiamo da noi partiamo da quella che è la nostra esperienza tu hai dato una grandissima mano a quello che oggi possiamo dire che salva la casa internazionale delle donne di Roma dopo una battaglia estenuante con la sindaca che anche questo ci dice di come il fatto di essere donne non significa avere tutta la stessa sensibilità ma che sono anche questi i percorsi culturali che ognuno di noi deve fare adesso è passata finalmente una norma in Senato che destina 900.000 euro alla casa internazionale delle donne e quindi probabilmente possiamo dire che è salva però io mi sento di dire che un applauso per questa salvezza la dobbiamo a Giulia Minoli perché Giulia ha fatto il Senato arriva, le istituzioni mi sento di dire arrivano dopo perché il livello di coinvolgimento di sensibilizzazione che c'è stato lo dobbiamo veramente a lei ma ci ritorniamo dopo quindi casa internazionale delle donne Sanremo arrivi sul palco insieme ad altre colleghe e lanci questo megaconcerto come nasce tutto questo impegno e come si porta avanti adesso che l'Italia è un po' congelata? Beh innanzitutto voglio ribadire appunto che questa donna è caparbia e non si ferma davanti a niente così chiudiamo poi dopo daremo la parola a lei perché non si è fermata davanti a niente ci ha contattato ci ha telefonato è rimasta sempre e noi l'abbiamo seguita in tutte le sue richieste per cui se anche questa cosa è arrivata dove è arrivata il Senato e dove è passata questa mozione dobbiamo soprattutto come hai detto tu a Giulia e a tutti quelli che insieme a lei hanno portato avanti questa battaglia hai parlato di cultura e la sindaca non ci ha supportato più di tanto è proprio per la mancanza di cultura cioè devo dire la verità perché in realtà se non ci si rende conto che quella non è solo una casa che accoglie le donne in difficoltà quella è un'istituzione che ha 40 anni cioè io mi ricordo il processo per stupro la Agostena Bassi l'avvocata diceva appunto che non volevano niente una lira doveva andare alla Casa Internazionale delle Donne che già esisteva allora non era via della Lungara ma era via del governo vecchio ma per dire che tipo di istituzione è cioè la Casa Internazionale delle Donne è un punto culturale un punto non è soltanto dove le donne vanno a chiedere aiuto perché anche questo è importantissimo là dentro c'è la sede di tante associazioni che si occupano di donne che hanno tutte sede lì dentro se qualcuno avesse voglia di vederla ci sono corridoi interi dove ci sono tutte le indicazioni di tutti i centri antiviolenza che fanno capo alla Casa delle Donne è un punto di incontro è un'istituzione che non si può chiudere non si dovrebbe chiudere nessuna Casa Internazionale cioè nessuna Casa delle Donne si dovrebbe chiudere anzi ci dovrebbero essere non dovremmo essere noi a cercare fondi per tenerle in piedi ma dovrebbero essere le istituzioni che tengono in piedi questi centri perché purtroppo ce n'è bisogno purtroppo dico purtroppo perché sarebbe bellissimo se non ci fosse più bisogno di centri di accoglienza però purtroppo le abbiamo e allora abbiamo ci siamo tutte strette intorno a questa richiesta nella Casa Internazionale delle Donne c'è un archivio storico sul femminismo cioè dall'inizio dalla conquista al voto fino adesso ci vengono dalle parti d'Europa dalle altre università per consultare l'archivio storico che c'è lì dentro per cui stiamo parlando di un'istituzione che non può chiudere per cui ci siamo battuti adesso grazie anche a Giulia ma grazie anche al Ministro delle Pari Opportunità che si è battuto tanto per portare avanti questa mozione vabbè chiudiamo poi dopo Giulia parlerà della Casa delle Donne molto meglio di quanto so fare io poi noi abbiamo abbiamo fatto diverse iniziative una è stata Amiche in Arena abbiamo raccolto fondi per appunto e l'abbiamo destinati all'associazione che poi si è occupata di distribuirle nel territorio adesso abbiamo annunciato questo concerto che doveva avvenire ma purtroppo col Covid è stato rimandato a giugno dell'anno prossimo abbiamo già venduto quasi 100.000 biglietti per cui per dirti quanto è sentita questo problema quanto è sentito speriamo che tutto si risolva per giugno prossimo se no saremo costretti a rimandare ancora purtroppo però a furia di parlarne tu dici che era un dato importante il fatto che adesso trovano coraggio ma questo trovare coraggio è anche supportato dal fatto che si continua a parlare la cosa che bisogna scongiurare che si spenga l'attenzione anche mediatica su questi problemi perché se oggi trovano la forza di denunciare è anche per il fatto che se ne parla se ne parla tanto noi abbiamo fatto durante il lockdown ti ricordi Giulia abbiamo fatto un appello per il una campagna per il numero 1522 che è il numero per il 1522 poi ho chiesto se questa campagna che abbiamo fatto proprio per aiutare le donne come dicevi tu che in tempi di lockdown stavano in difficoltà è servita moltissimo perché adesso non mi ricordo bene i numeri ma fai conto che da 1200 chiamate siamo passati a 5000 chiamate per cui evidentemente tutta questa attenzione queste informazioni che noi diamo ognuno nel suo piccolo ognuno come può ognuno con il mestiere che fa noi lo facciamo con la musica lei lo fa in un altro modo voi lo fate in un altro modo tutte queste informazioni aiutano le donne a trovare il coraggio di chiamare per cui credo che 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 dobbiamo continuare su questa strada e non mollare e non mollare mai perché perché purtroppo bisogna dire che se abbiamo ancora bisogno di leggi vuol dire che il lavoro è adesso il 10 di ottobre a piazza Scala a Milano c'è una manifestazione per chiedere un disegno di legge che protegga appunto tutte le minoranze le donne gli omosessuali le diversità cioè purtroppo devo dire che non lo vorrei fare perché nel terzo millennio insomma io sono stata giovane negli anni settanta eravamo molto più liberi all'ora di oggi sembra che il mondo sia anziché evoluto sembra di involvere così per cui non immaginavo che alle soglie del terzo millennio io dovevo andare a Milano oppure fare campagne per chiedere una legge che tuteli che tuteli le diversità non onestamente se me l'avessero detto non ci avrei creduto tant'è che lo dobbiamo fare lo faremo e spero che vengano che vengano accolte ecco tutto qua io nella mia piccola esperienza dico che forse i leggi ce ne sono pure fin troppe che a volte magari sarebbe importante riuscire intanto a fare in modo che venissero rispettate quelle che già esistono e che si abbia anche la capacità di leggiferare non in una condizione di emergenza perché a volte l'emergenza in realtà non esiste e ragionare in maniera invece più strutturata io penso che penso che noi si debba se vogliamo ottenere dei risultati si debba partire da capo soprattutto sui bambini e soprattutto sulla scuola cioè bisognerebbe che ecco nella mia come dicevo prima nella mia società ideale le scuole dovrebbero essere tutte così cioè le scuole non dovrebbero chiudere alla fine delle elezioni le scuole dovrebbero rimanere aperte perché non deve essere respingente la scuola come un obbligo che un ragazzino deve studiare perché deve essere accogliente per cui dentro la scuola la scuola dovrebbe vivere anche dopo le ore di lezione dovrebbero dentro le scuole ci dovrebbero essere luoghi come questi librerie cinema scuole di musica proprio nelle periferie proprio nei quartieri dove dove queste cose e queste iniziative sono carenti soprattutto nei quartieri come questo per cui bisogna ripartire da capo poi le leggi purtroppo non ci sarebbe bisogno di leggi se si educasse appunto no? si educassero al come dire al rispetto dell'altro se ci fossero ci fosse una materia nella scuola che fosse dedicata appunto al rispetto dell'altro bisognerebbe anche partire dalle famiglie le parole sono importanti sono importantissime i comportamenti nelle famiglie sono insegnamento a volte deleterio e a volte positivo nei confronti dei bambini bisogna ripartire dai bambini proprio da ricominciare da capo ci vuole la volontà di tutti ci vuole anche la volontà delle istituzioni te lo dicevo perché ricordo ormai saranno passati 6-7 anni quando venne lanciato il decreto era presidente del consiglio in quel momento Enrico Letta un decreto che venne chiamato contro il femminicidio perché era un momento in cui si registravano parecchi casi e quindi in quel momento su una spinta emotiva si fece questo decreto che teneva dentro era un decreto omnibus che teneva dentro veramente un po' di tutto e alla fine anche sul tema delle donne si risolve tutto con l'inesprimento delle pene per cui tu dai secondo me la parola femminicidio è una parola importante perché connota la causa non l'oggetto della morte quindi è sicuramente una parola che è importante avere nel nostro vocabolario e che anzi soprattutto i giornalisti dovrebbero iniziare a utilizzare molto di più detto questo però non c'è mai un passo in avanti invece sulla prevenzione cioè sulla possibilità di non arrivare a quell'atto finale a quell'atto conclusivo e su questo sì magari ci fosse da ci abbiamo provato poi magari su questo invece facciamo intervenire i cinze che è un po' di educazione sentimentale qua dentro la fa però in termini di prevenzione pensavo Giulia se ti va di parlare anche un po' del progetto che stiamo portando avanti insieme perché non so se avete notato comunque tutti quanti noi dell'associazione abbiamo questa mascherina qui con su scritto mascherine contro la violenza questo è un progetto che è nato durante il lockdown perché eravamo tutti chiusi a casa però non ci potevamo stare chiusi a casa senza sapere cosa fare senza intervenire con qualcosa di concreto e quindi con la cooperativa Eva che è un centro antiviolenza una casa rifugio che si trova all'interno di un bene confiscato a casa di principe che lavora tantissimo non solo sul recupero delle donne ma sul tema dell'autonomia finanziaria delle donne perché poi se non c'è l'autonomia finanziaria poi si è costretti a tornare a casa dal proprio carnefice e quindi il lavoro che è nato mentre eravamo tutti chiusi a casa è stato quello di riconvertire uno spazio all'interno della cooperativa Eva che è diventato una sartoria che ha prodotto insieme in partnership con San Leucio che sono un punto di riferimento per le sete in Campania e si è nata la produzione di queste mascherine che ha consentito quindi a molte una piccola parte di queste donne di imparare un mestiere che è quello delle sarte quindi sono partite con le mascherine e adesso con questo progetto si continuerà anche loro continueranno una formazione come sarte per produrre dei nuovi prodotti che possano essere funzionali alla loro autonomia finanziaria questo è un progetto che ha avuto anche una campagna di comunicazione importante dove hanno dato il loro volto così come l'hanno fatto Fiorella Paola Turci e tante altre per il numero 1522 lo hanno fatto Malika Iann Giappi Cucciari Luisa Ranieri su queste mascherine che sono comunque delle mascherine che rappresentano davvero un lavoro importante sull'autonomia finanziaria delle donne se tutti i centri antiviolenza lavorassero su questo tema ci sarebbe questo farebbe la grande differenza poi sulla casa internazionale delle donne ci tengo a dire io immagino che quasi tutti la conosciate però comunque è un luogo che io ci sono entrata da femminista inconsapevole mi definisco così perché è vero nel senso che alla fine noi cresciamo in una situazione in cui della storia delle donne più di tanto alla fine non si sa e invece è una storia che io ho scoperto grazie a questo luogo che è un luogo popolato certo dalle donne che hanno fatto le battaglie ma quelle battaglie molte donne delle nostre generazioni non le conoscono perché non si studiano così come dovrebbe far parte anche questo di un programma di lavoro perché è una storia che sempre di più abbiamo bisogno di ricordare perché non dobbiamo dare per scontato nulla di quei diritti che sono stati conquistati con grande fatica e dal femminismo inconsapevole passiamo al femminismo pesante di Cizia la parola femminismo non è una parolaccia no 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 non è una parolaccia ma giustamente le dicevi inconsapevole perché è frutto di un percorso io lo dico sempre agli uomini siate femministi perché non è una parolaccia cioè anzi un uomo femminista secondo me è una no come dire è un atto di coraggio siate femministi non è una parolaccia ma Fiorella era un assist perfetto e il suo semplicemente perché abbiamo qua un esemplare invece di femminismo pesante proprio che ci proviene da Cizia Paulillo che ci ha fatto studiare Tomi e Tomi diciamo per riuscire a poter elaborare un pensiero che fosse veramente compiuto e no ora al di là delle battute ti chiederei invece di raccontare un po' di questa esperienza di quale si sta facendo con con i ragazzi è anche un po' quello che è stato il percorso nostro che ci ha portato qui io ve la racconto volentieri questa esperienza e ringrazio il corpo docente con la preside in prima fila perché anche attraverso loro che questa esperienza la facciamo l'educazione sentimentale la proposta di legge che Celeste nel suo lavoro di deputata appunto ha proposto in cui si chiedeva l'introduzione dell'educazione sentimentale nelle scuole noi io Loris Andrea in questa scuola la agiamo la agiamo attraverso i percorsi di cittadinanza e costituzione e entriamo nelle classi per parlare loro di decostruzione di stereotipi di femminismo della storia del femminismo di che cosa vuol dire una tematica di genere di che cos'è la violenza di perché è stato a un certo punto urgente coniare il termine femminismo per indicare l'uccisione di una donna da parte di un uomo e cerchiamo di calarli un po' nel contesto in cui vivono e fargli capire la storia da cui provengono non sempre l'accoglienza a questi temi è facile perché se come diceva Giulia il femminismo è un termine presente sono una femminista inconsapevole spesso non si conosce la storia per i ragazzi figuratevi loro non ce l'hanno presente noi donne votiamo descontato non c'è più l'imposizione patriarcale siamo nel 2020 si sentono appieno in questo tempo la nostra società però ancora tanti soffitti di cristallo ce li ha la disparità di genere esiste esiste nel mondo del lavoro delle istituzioni in politica esiste poi con la violenza e io e Loris spesso ci moduliamo nel come fare gli interventi perché appunto le nostre non devono essere delle lezioni di storia noiose quest'anno abbiamo provato eravamo in quinta credo a introdurre a un certo punto una lezione partendo da un video abbiamo preso su youtube un video in cui l'attrice Charlize Deron rimbrotta il suo intervistatore dicendogli scusa ma perché a me fai la domanda su che cosa ho mangiato che dietro ho fatto per entrare nel vestitino della protagonista del film mentre qui a fianco a me il mio collega attore maschio ha fatto tutte domande su quanto ha studiato per calarsi nel personaggio davvero pensi che il pubblico sia interessato a questo e loro non ci potevano credere c'era una VIP che stava parlando di questo tema e da lì è partita una bella discussione e anche per questo è importante la presa di parola di artisti come Fiorella Mannoia per questo motivo noi in questi anni siamo stati fortunati tanti personaggi hanno sposato la nostra causa spesso ci siamo però sentiti dire fate un lavoro bellissimo ok però non posso venire da voi perché dovrei andare da tutti come si fa oppure alcuni hanno paura di scontentare qualcuno o perdere pezzi del pubblico Fiorella questo mutismo selettivo non ce l'ha non soffre di questo problema l'abbiamo vista al Bataclan dopo i fatti del Bataclan le stragi e tu sei andata lì a fare un concerto ti abbiamo visto in piazza contro il DDL Pilonno cioè in carne ed ossa è scesa in piazza a manifestare ha fatto come abbiamo detto il concerto sulla casa internazionale delle donne un impegno attivo e anche a fronte del lavoro che facciamo noi dal basso con i ragazzi e le ragazze ti dico che questa cosa ha una grande valenza significa tanto a loro arriva è importante ognuno di noi deve fare la propria parte io a te volevo chiedere se c'è uno stereotipo che più di ogni altro ti risulta odioso che magari hai subito nella tua carriera se c'è un pregiudizio col quale ti sei scontrata e niente no io nella mia carriera no onestamente devo dire che noi donne siamo sempre pagate meno degli uomini anche nel nostro settore cioè questo è in dubbio sono gli attori che sono pagati sempre più delle attrici i cantanti sono pagati più delle cantanti per cui è questo rientra il mio settore in tutti i settori in cui non c'è non c'è parità quello che l'odio lo stereola frase che odio di più quando ci sono casi di violenza è se l'è andata a cercare ecco io quando sento se l'è andata a cercare mi viene proprio l'istinto omicida ecco sono sincera perché questo è proprio una cosa da sradicare dicevi prima che non avremmo bisogno di leggi sì è vero non ce ne sarebbe bisogno ma quando i titoli dei giornali titolano dramma della gelosia la donna ammazzata era il dramma della gelosia ieri un uomo stupra la fidanzatina del figlio la stupra davanti al figlio per dimostrargli come si prende una donna e il titolo è stato lezioni di sesso davanti al figlio questo è stato il titolo del giornale un altro il gigante buono ma quello ammazzato la moglie i figli e poi tu dici il gigante buono un altro che dice un altro titolo è stato il dramma dei padri separati cioè queste cose se ci fosse un ordine dei giornalisti andrebbero sanzionate per legge proprio se non ce la fanno da soli bisogna sanzionarli perché le parole sono importanti quando tu dici ubriaca fradicia stuprata dal gruppo dietro la discoteca tu metti ubriaca fradicia come prima parola come prima frase ubriaca fradicia cosa vuol dire che allora siccome era ubriaca fradicia in fondo ecco qua se l'andate a cercare come anziché dire gruppo di stupratori approfittano di una ragazza ubriaca fradicia che dovrebbe essere come dire un aggravante non un attenuante loro titolano così per cui le parole io penso all'importanza delle parole le parole sono importanti come vengono raccontati i fatti come si viene anche come dicevo prima le parole che si usano in famiglia le parole sono importanti perché entrano nell'immaginario collettivo e ti destabilizzano e cambiano completamente il quadro della situazione per cui questi andrebbero sanzionati purtroppo però ci lamentiamo noi che ci facciamo caso le pubblichiamo ci lamentiamo ma poi al prossimo titolo sarà sempre la stessa cosa per cui ecco perché a volte abbiamo bisogno di leggi perché purtroppo quelle che ci sono poi non vengono rispettate allora tu dici inaspriamo le pene no io non voglio inasprire le pene non sono io pretendo che vengano rispettate le leggi che ci sono però purtroppo ogni volta che c'è di mezzo uno stupro e questo lo vediamo tutte le volte ci sono sempre le attenuanti sempre o ci sono sempre arresti domiciliari o ci sono attenuanti o però lei come era ancora siamo a dire come era vestita che era ubriaca fradicia per cui noi dobbiamo allora batterci perché perché queste cose vengano sentite come qualcosa che non va fatto come qualcosa che rischia anche molto caro perché altrimenti tanto pensano sempre che in qualche modo in un mondo e nell'altro se la cavano cioè questo purtroppo è oggi la realtà dei fatti è questa per cui forse le pene non le inaspiranno ma a forza di chiedere forse verranno applicate ecco ve lo auguro non lo so non lo so però mi rendo conto che questo dovremmo fare un dibattito solo ed esclusivamente su questo perché comunque le pene sono state anche inasprite nel corso del tempo e purtroppo non ha sempre partendo da quello che abbiamo detto prima educazione da lì non si escappa ma infatti rispetto alle cose che diceva Cinzia oltre alle frasi per esempio a me è una frase che dà molto fastidio e che è molto di senso comune quando vedi una donna in gamba che dice a due palle così perché questa cosa è ormai proprio gergo nel senso è normale sentirla dire sono anche le donne che lo dicono spesso di altre donne però già questo in sé è la matrice culturale cioè il fatto che tu per essere brava cioè per essere riconosciuta come brava vieni paragonata ad un uomo e quando la fai notare questa cosa sono lì a dirti ma che esagerata ma che palle ma stai lì a mettere i puntini sulle i io mi rendo conto è fastidioso questo atteggiamento perché oggettivamente lo è il fatto di bacchettare sulle parole come giustamente perché tu dici le parole sono importanti allora uno cerca di bacchettare sulle parole e però risulta fastidioso diventiamo tediosi se insistiamo su questi elementi ma io invece sono talmente convinta che poi il simbolico è materia viva no? è sostanza che faccio un esempio un po' più leggero del tuo no? perché quello sulla violenza è molto evidente cioè i titoli così noi per anni ci siamo battuti per eliminare il raptus di follia che in medicina non esiste proprio è una cosa sbagliata sotto ogni punto di vista ma faccio un esempio recentissimo tutte avete visto questa immagine bellissima delle due scienziate del Nobel adesso ho vinto ma voi avete visto come sono stati titolati gli articoli e i giornali si chiama Marta l'Ethelma e Louise della scienza si chiamano Mamme a un certo punto un atteggiamento proprio come se stessimo affrontando no? quindi questa che è una roba più sottile no? più sottile anche più bella esteticamente no? perché tu vedi questa foto leggi questo titolo apparentemente sembra tutto tranquillo tutto normale e però è là che si insidia secondo me l'elemento culturale che caratterizza ahimè non solo il nostro paese perché è un problema globale non è sicuramente un problema solamente italiano ma che secondo me è lo sforzo grande che noi dobbiamo provare a fare ma non perché una cosa esclude l'altra sia chiaro perché è giusto che ci siano le leggi giusta l'applicazione è giusto anche che i reati vengano pagati come tutti i reati che ci sono a questo mondo però io insisto noi insistiamo tutte principalmente sulla matrice culturale perché ci sembra che ci sia proprio un capovolgimento cioè un mondo capovolto per cui anche le cose più banali anche le cose più banali vengono trasferite vengono interpretate i bambini hai fatto benissimo a fare il riferimento ai bambini perché poi noi l'abbiamo chiamata educazione sentimentale ma chiamiamola come vogliamo educazione civica educazione all'affettività educazione di genere educazione alle differenze al rispetto a poca importanza il punto è che i bambini non hanno sovrastrutture quando noi ci siamo ritrovati a parlare con le insegnanti perché l'iter di questa proposta di legge è stata bella perché partecipata le insegnanti dicevano che davanti ad alcune domande fatte ai bambini erano loro a rimanere pietrificate dal fatto che loro non avevano assolutamente quella malizia non avevano assolutamente quel pregiudizio quella sovrastruttura che invece noi abbiamo quindi alcune domande neanche le capivano perché mi stai chiedendo se preferisco il rosa all'azzurro via discorrendo poi sali di grado e fai come abbiamo fatto noi sulle scuole superiori e trovi già la presenza di una divisione netta se poi a questo ci aggiungiamo un abbandono un abbandono un abbandono non lo sto dicendo con giudizio ora sto cercando semplicemente di mettere insieme un po' di elementi della contemporaneità soli davanti a un computer alcune di quelle domande che non trovano da noi noi classe dirigente noi insegnanti noi famiglie noi istituzioni le vanno a cercare fra di loro e le vanno a cercare in rete escono fuori le cose più abberranti e più pazzesche e pericolose guardate io chiudo su questo e poi ti vorrei fare un'ultima domanda prima di per esempio adesso è aumentato tantissimo la violenza di branco tra minorenni con l'utilizzo delle immagini di rapporti sessuali prima di rapporti sessuali e poi di violenza sessuale e quindi il ricatto attraverso il cellulare le immagini la documentazione avvenuta tramite il cellulare questo cioè questo processo questo non so neanche come definirlo veramente perché è una cosa che mi fa veramente tanto orrore perché si protrae nel tempo perché sotto minaccia queste bambine perché sono bambine va bene anche su per ritornare al linguaggio non so se ve le ricordate le baby squillo le baby prostitute no le bambine subiscono queste cose ed è una una modalità che sta prendendo piede tantissimo e riuscire a trovare il coraggio per raccontarla è faticosissimo quindi questa è la responsabilità diciamo che per chi opera direttamente in questo settore ci si porta dietro ma anche di chi poi si assume anche la responsabilità di parlare ad una platea che sono convinta che ci sia della sensibilità nel momento in cui si decide di venire qua però non si finisce mai di imparare guardate perché io il maschilismo lo combatto su me stessa quotidianamente minuto per minuto perché nessuno è salvo non so come dire cioè io mi rendo conto a volte di fare dei pensieri o di pronunciare delle parole per cui poi rifletto e dico ma che cazzo stai dicendo cioè ma come ti viene in mente perché è talmente insito in in noi per cui è veramente un lavoro quotidiano che va fatto su noi stessi allora ti dico questa cosa e finiamo con una tua battuta quando dovevamo decidere il titolo di questo dibattito all'inizio loro hanno Danilo insomma ora non so chi materialmente ha stilato il programma hanno scritto quello che le donne non dicono prendendo a prestito il titolo della tua canzone e io ho detto no assolutamente ma è proprio un segnale bruttissimo che noi diciamo facciamo un dibattito su quello che le donne non dicono diciamo eliminiamo quel nonno che ho detto secondo me secondo me Fiorella è più contenta ho detto se facciamo in questa maniera poi Cinzia mi dice prima del dibattito io comunque le dirò che noi andavamo alle manifestazioni e cantavamo Caffè Nero Bollente ho detto guarda io ho visto una sua intervista in cui dice che in realtà non è che lei quella canzone ce l'abbia tanto al cuore quindi forse è meglio metterla questa cosa ma in realtà no invece te la volevamo dire lo sai perché c'è stato un momento per cui il movimento un momento il movimento femministe è stato sempre diviso in centomila correnti diverse quindi c'è stato un momento in cui la sinistra come la sinistra esattamente anche peggio per certi versi allora quando c'è stato in piazza il senno non ora quando noi abbiamo fatto la corrente a parte che si chiamava indecorose e libere dove capito da una parte cantavano il senno non ora quanto cantava quello che le donne non dicono e noi cantavamo Caffè Nero bollente quindi tu hai unito il movimento femminista in qualche modo non lo sapevo ma la battuta finale è proprio su questo sei contenta cioè di questo percorso va bene quello che le donne dicono oggi va bene va bene quello che le donne non dicono infatti ha spaccato un po' tanti mi dicono se non l'avessi cantata tu sarebbe sembrata una canzone un po' reazionaria e infatti sei tu con la tua storia che poi alla fine gli ha dato una connotazione in realtà a quei tempi non bisogna mai decontestualizzare le cose perché è così come dici Caffè Nero bollente io per anni la paragona a una vecchia foto cioè quando vedi le foto nel cassetto che dici oddio ma ero così no no chiudi chiudi per carità io come ricordo quel ciuffo davanti quelle cose non mi ci riconoscevo più poi il tempo con il tempo fai pace con tutto apri quella famosa fotografia che non volevi vedere con il tempo dice vabbè però ti fa tenerezza ecco Caffè Nero bollente ci ho fatto pace adesso la canto la canto la canto è un po' di anni che la canto ci è voluto il tempo però insomma sono contenta sono contenta anche di vedere onestamente che davanti a me su quello che le donne non dicono ci stanno tre barra quattro generazioni perché io vedo la nonna la mamma la figlia la figlia magari incinta con la bambina perché questo mi dà una grandissima soddisfazione è passata proprio è stata trasversale per cui è infatti adesso sono un po' di tempo che quando dico ti diremo ancora un altro io dico sempre forse mai dire sì non dovete mai essere sicuri forse diremo ancora un altro forse per cui con il tempo è cambiata vabbè comunque finendo tutto questo non so se ci sono altre domande ma io io direi che insomma possiamo chiudere agganciandomi a quello che dice quella donna c'ha due palle così potremmo dire quell'uomo c'ha due tette così cambiamo grazie grazie grazie